video incredibile scopazzini che sono un team di bambini presi dalla community telegram e disco tutti i link in descrizione se anche voi volete partecipare a questi format contro la mini banda sacra il team di eisbos partita cardiopalma e spero vi piaccia come vedete sto seguendo un po di più il canale youtube non mollo una intro e vi voglio bene siete i clienti del mio locale e vi offrono sciottino ciao andiamo giù dai ragazzi ciao belli come state un palino o bene samuele come stai vita luce nei miei occhi bene bene e vi ricordate com'è andata l'ultima partita paolo il millanere avversario e dai 4 e in più quasi 16 anni sta giocando sulle sapete io ormai ti lascio tutte le gilla perché ragazzi sono nella nostra giungla mamma poi che si dicono le cose con la cattività ragazzi fra di voi c'è stato un atteggiamento cattivo siete d'accordo con me o no ragazzi vi stavate divertendo no e come fate a divertirvi il vostro atteggiamento negativo tutto il tempo ascoltatevi non sono frasi comune voi parlate 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 uno ha ripetuto quattro volte non andare lì non andare lì non andare lì non andare lì faccio vedere una piccola clip in live che mi hanno suggerito caldamente di guardare scusatemi giocare solo a raga facciamo entrare delta aniris che sono anche gli altri diamond facciamo lo scampo di diamond e chiamiamo allora cerchiamo di fare accorgimenti sia in draft sia in gameplay ok ragazzi voi volete giocare qualcosa anzi faccio prima questa domanda avete aggiornato un po a champion pool o c'è qualcosa che tipo volete tanto giocare ho il cento per cento di un interest con annie annie cento per cento di un interest questo lo teniamo benissimo a mente che annie è un campione che steve moltissimo ciao ace come stai bene bene sono pronto e carico vediamo se questo giro dopo aver messo tutto in ordine sono tutto pulito guarda tutto pulito ho messo anche la maglietta dei samsung perché ho sentito che tu hai quella dei clash vediamo se hai il coraggio di dire qualcosa quando vinceremo allora prima di tutto vorrei dire due cose innanzitutto mi sembri quella la dogana che gli hanno trovato tipo centomila pacchetti di sigarette la seconda volta dice non ne ho neanche uno ma in realtà ne ha portati un paio non è vero ok ti sembra le apparenze le cose che le apparenze non sono sempre guarda lasciamo stare ma e se qua invadiamo a livello 1 ragazzi potremmo fare queste domande a me anche se è un coach per il segua lo so che di base del segua da un coach è il mio coach però fatemi almeno fare l'assunzione dai mi fa attenzione a merda ma una domanda ogni tanto sì ma due su due mi uccidete e paolo cosa dici invadiamo a livello 1 allora è allora tu traccalo sempre il gioco nemico di base la cosa è non non gankare mid lane mid lane dobbiamo giocare passivi magari pre 6 puoi fare un gank proviamo a gankare bot lane ok proviamo a punire taric proviamo a punire gin abbiamo gianna che possiamo dai varli in bot no vero ma quando abbiamo quando abbiamo i sei sì quando ci vogliamo la finestra migliore per il dive è quella dopo il 6 delle solo lane prima del 6 di taric è una finestra abbastanza piccola ma che si può prendere come come finestra di dive magari veritate il dive poi attendete un attimo la ulti prima poi finisce giusto sì sì e poi uccidete hanno molte meno globali rispetto all'altra partita siete voi che avete le globali adesso cosa vuol dire questo che dobbiamo fare le giocate sul lato della mappa dove non ci sono le globali qual è questo lato della mappa bot lane se facciamo giocare che non siano bot sta tentando mid magari una volta su cassa in prima volta un tarlo ma non è detto che abbiamo in dps perché gali è un mago che fa pochissimo danno a un tankone top è difficile arrancare perché un tank tendenzialmente giocheremo per la bot lane e nei team fight avete un sacco di peeling back loro vorranno provare ad ingaggiare con orn taric avete gianna avete shen avete porca ma che è successo potete guadagnare un sacco di tempo quindi tu noi scaliamo meglio di loro mette ora noi scaliamo meglio di loro guarda secondo me la chiamo un po di danno perché loro ci hanno cazzo 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 proviamo ad abusare tanto della botte ragazzi allora ragazzi mi raccomando la comunicazione ascoltatevi non parlate a vanvera giocare attorno alle vostre ultime paolo non drollare divertitevi le regole rimangono semplici dell'altra volta sono cinque aiuti ogni volta che secco paolo si smutano hanno facciato un aiuto dai mi stiamo facendo proprio delle drafti secondo me non tutti se potete copratemi il galio era il nostro red side della giungla vado io con poppy tutto per mettere una ward qua per controllare se si va a fare i raptor poi resetto non voglio andare a invadere hirli comunque questo è super protect carry qua metto io ma dai ma siamo può cambiare dai cazzo sì sì però attenzione perché se prendi galio non puoi fare tank top tank jungler per cui nel momento in cui prendiamo galio quello shen diventa top a meno che non abbiamo qualcos'altro si riusci a fare qualcosa quindi caratto si riesce ecco il tornado buono lascialo 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 andare c'ho il bacio da 2 mila sarà poco benvenuto probabilmente adesso sta start a blu questo giangler è super aggressivo siamo jinn vai su jinn vai cazzo torna di qua merda ho trollato io no che va bene finisco full clear red resetto non mi dispiace per niente se volete ingeggiare alla ulti non ha ancora fatto un giro di gioccolato se vi serve la ulti chiamatelo è morta è morta mia buono top top ulti top come stai paolo tutto a posto non importa non pensare allo sbaglio che hai fatto però queste robe che dico mi fanno emozionare non pensare allo sbaglio che hai fatto mettergli paura è messo l'era dite qualcosa un po' c'è no 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 ma niente voglio solo dare i gold a samu più che altro magari si scavano non arrivano tutti quattro tutti quattro lascia lascia vai via via samu poi dentro anche ulti ah non ha tu orso mi tipo mi tipo ti aspetta voglio farsi il drake voglio farsi il drake esatto esatto cinque dentro cin 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 devono stare tranquilli beitata e beitata e buona in casa in casa di casa ok buono buono casix 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 chiude gin dietro a tutti eh sì vabbè caite riesce venire caite riesce venire aspetta vabbè vince 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 ma vince comunque ho trollato tantissimo no ma vinciamo per forza eh raga un'uomo buono ma come è possibile ma perché non sei riuscita per danni come è possibile stiamo tankando in tre ma perca puttana oh ma serviva abilità quello muore auto q auto q sto arrivando al drake ho la ulti ho la ulti si può andare in casa vai ho la ulti no 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 vado 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 in morto buono buono lascia stare la guarda non possono contestare tanto proviamo a killare cassa di ammetterlo mid ecco le gin arrasa la torre adesso la torre cazzo d'insale sale lasciano lasciano prima arriva 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 arrivo facci 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 da navide non ha vita non ha vita ma non metto l'era da mettere non vogliono stare tre tre molti tipi di pop i pop it non vediamo affettiamo ok no orne c'è dentro una giungla c'è uno abbiamo le volte perché io potevo fa quella cosa bravo dobbiamo fare con pink e il po questo sarebbe casa di oggi e casta di necina ditemi quando ti pare tipa 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 vogliono stava vogliono farsi drake vado sul drake vado sul drake vado sul drake non l'ho preso ragazzi ha preso tutti i ulti caizzi ulti caizzi ulti caizzi non preoccuparti le minuti vai 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 ma li salva tutti sentite una botta fenomenale sti ragazzi sono schizzati fuori come come una catapulta jin 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 jin-edì se si vado se si prende la torre botto gioca per baron vision vogliamo pop it box e il tp e vogliamo stappare la vision insieme facciamo i picchi che diamo becco avete fatto fino adesso e case viva vincente non lo so prima arrivata a lascia lì possiamo abitare lo start appena vediamo che arrivi qualcuno tipo casi ci buttiamo a fiondo su di lui alla ultima vai 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 mettiamo il bar quanto fai gianno io non lo sai sono bozza e c'è taric bot baron 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 possiamo stare siamo lo aspettiamo la visione io solari e la stiamo facendo perfetto resettiamo subito poi anzi e io arrivando orno mentre vi facciamo in tempo interiante io direi di aspettare un attimo guardate casix ok buona 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 non ha già più che sinera l'uggiamo ciao trago 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 se lo avrebbe a égalissimo break vai bravi forne è un po' qui 2 e pp bus sa bota noi andiamo 4 mid mondo bravi moda e viene di se si è tanto disingaggio con le facciamo e sentiamo la diciamo che allora vado più non dovremmo mai essere in grado di ucciderlo così andano uno più solo se lo mangio a colazione samu a colazione dove 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 è quello il king è l'unico king qua dentro dai ragazzi se riesco a prendere castini venite seguitemi ragazzi ragazzi non possiamo non credere attenti ragazzi non ci sono mini questa denaia no possiamo finirla 20 secondi ma finiamo non gridiamo ragazzi entrano dentro ma va bene poi lasciali giocare sì 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 una volta una volta che hai fatto la decisione in borsa in te la ulti di orm e solo quello ragazzi ok via via disingaggio disingaggio non muori si immagiate si immagiate se riuscite kill a peccati ok via 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 possiamo vinciamo no c'è cassa di noi abbiamo carri ragazzi vengono vincere casa in casa in casa in casa basta beh proprio no non dovremmo mai vincere siete 6 forse in realtà i minio hanno finito buono 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 abbiamo vinto mi vinti ragazzi avete pochissimo scassa di essere andato potrebbe NO 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 che è un milionito che sono sennò un po' più si fa l'inibitor via 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 orna voltare e disingaggiamo chiamatemi se volete il tp si continua a pushare noi ce ne teniamo il più possibile il problema è che la mi 2 non dovrebbe essere là non serve oh gin io sto pillando mi ha one shotato cassa pilo kaiser pilo kaiser cassa di incassa di mori 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 ma che cazzo fatto non troppo perché se dobbiamo prendere il focus kassadin abbiamo focusato gin e casix completamente inutile dovete stare attenti a a casa e basta è l'unica che può fare qualcosa gli obiettivi c'è cassa in cassa faceva sbattiamolo partiamo la siamo la via 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 e Finiamo, pusciamo mid, pusciamo mid, pusciamo mid Andiamo, andiamo mid, 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 ragazzi Abbiamo vinto, mi sa Possiamo anche non pusciare dei minion Non c'è nulla Ci sono io, ci sono io, ci sono io, ragazzi Nexus, nexus, nexus Nexus, ragà GG, ragazzi, GG GG Bravi, 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 ragazzi Allora, ragazzi, allora, ragazzi Bravi, bravi, bravi Io penso che sia un buon game E che avete giocato con una squadra Penso che ci sono stati errori E penso che ci sono state tante cose buone Penso che avete giocato molto, molto meglio dell'altra volta Hai installato 10 aiuti Io mi avevate 5 E poi alcuni Adesso, adesso vado a flammare Non vi preoccupate Per dirvi cosa L'unica cosa che conta è che avete fatto Avete fatto una bella partita E siamo orgogliosi di voi Il video è arrivato alla fine Se vi è piaciuto magari condividetelo con i vostri amici su Whatsapp e Telegram E grazie per tutti i feedback che mi avete dato lo scorso video Tutte le idee Vedo che le visualizzazioni di YouTube stanno crescendo Siamo quasi 100.000 iscritti PS Stiamo per preparare un video E' il mio primo video dove festeggio un traguardo su YouTube Anche forse il più sentito Vedrete, vedrete Buona giornata Ciao 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 Ciao